Una conferenza stampa del Crotone Calcio in cui il presidente Gianni Vrenna e il direttore generale Raffaele Vrenna hanno rotto il silenzio dopo mesi, assente per problemi personali il direttore sportivo Giuseppe Di Bari snocciolati numeri obiettivi che non è la promozione diretta ma essere tra le prime squadre del campionato di Serie C Gironi C e poi prepararsi al meglio per i play-off. Abbiamo lo stesso che questa è la grande difficoltà soprattutto quando tu costruisci una squadra molto tecnica Poi quando arriva il Crotone le altre squadre le forze le raddoppiano Poi un pensiero sul mercato appena concluso Sì, molto soddisfatto perché sono state fatte tante uscite che non erano del progetto Crotone abbiamo portato a casa giocatori di esperienza, qualche giocatore giovane, qualche giocatore importante per la categoria Adesso sono in tante, adesso sta il nostro allenatore poter trovare la giusta chiave perché questa squadra possa continuare a fare i risultati che per un buon periodo è riuscita a fare Abbiamo chiesto cosa ha pensato la squadra nel salutare il centrocampista Jacopo Petriccione a prodato in B Jacopo era ben voluto da tutto il gruppo, da tutti noi Era un ragazzo che si faceva volere bene, non solo in campo come avete visto Però io penso che i compagni, quando tu hai un'opportunità e vuoi andare via i compagni ne prendono atto, la squadra ne prende atto, la società ne prende atto e si va avanti, anzi siamo contenti per Jacopo Poi subito il pensiero all'appuntamento di lunedì prossimo in una partita sentita allo stadio Zoscida tra Crotone e Benevento C'è sempre i play-off vinti a Benevento C'è sempre questa grande rivalità tra le due tifoserie Io sono molto amico in ogni caso del presidente pertanto lo aspetto con piacere se viene E niente, speriamo bene lunedì di poter riagganciarli e da lì ripartire È una partita storica, i nostri rivali di sempre, diciamo, nel modo sano Quindi mi auguro che ci sia anche la tifoserie ospite perché comunque questo è il calcio che vogliamo vedere fatto soprattutto di agonismo Quindi l'appello alla città è che sicuramente lunedì ci sarà un bello spettacolo speriamo di accorrere, di aiutarci soprattutto di incitare la squadra dal primo all'ultimo minuto perché comunque avere uno stadio semivuoto e non avere il tifo questi ragazzi comunque poi gli si chiede sempre lo straordinario però bisogna pure dargli una mano ai ragazzi che vanno in campo Nulla, dalla conferenza stampa aggiungiamo il fatto che gradiremmo che questo stadio possa in un certo qual modo essere il dodicesimo uomo in campo che ultimamente non si sta verificando questo Accettiamo le critiche ma quelle costruttive e non quelle distruttive pertanto invito i nostri tifosi a seguirci fino alla fine e poi a fine campionato diremo le somme purtroppo è una categoria difficile come ho sempre spiegato ci troviamo a andare a giocare in degli stati purtroppo che sono ai limiti del regolamento questa è la categoria è difficile soprattutto nel girone C rispetto agli altri gironi e niente io spero che questa squadra ha avuto ultimamente dei risultati altalenanti soprattutto le ultime tre ma per come è stata costruita ora speriamo di rivedere il crotone che abbiamo visto nelle ultime uscite prima di queste tre ultime partite che ci hanno visto purtroppo col Francavilla pareggiare in casa a Cerignola vincevi 2-0 e prendi 4 gol vai in vantaggio a Sorrento a Potenza purtroppo poi prendi un calcio di rigore da un giocatore forse che nel 2024 non gli sta girando molto bene che è Tuminello perché ha avuto due occasioni importanti e lì di fronte ha trovato il portiere che purtroppo è ci è avuto a mancare la vittoria perché forse sul 2-0 non avremmo fatto l'errore di Cerignola